Ciao a tutti, sono qui per fare il music tag, sono stato taggato da Shuras Corner, ovvero Aldo. Ciao Aldo, ti mando un bacio, tagliati i capelli ti prego. E quindi direi di cominciare subito con le domande, partiamo dalla prima. Allora la prima domanda è elenca le 5 canzoni nel momento che stai ascoltando. In realtà non ci sono 5 canzoni, anche perché non avendo più l'ipod non mi sento più molte canzoni così, però c'è una canzone ultimamente che sto sentendo in loop, che è quella degli How I Became the Bomb, che si intitola Uleio, che è insomma praticamente dedicata alla storia tra Ulei e Marina Abramovic, che la trovo molto carina, anzi se non la conoscete andatevela ad ascoltare perché è molto molto carina. Seconda domanda, canzoni che hai smesso ad ascoltare? Allora, in realtà non ci sono proprio delle canzoni che ho smesso di ascoltare, ma ho smesso di ascoltare più o meno un genere, ovvero il genere è un po' da discoteca che c'era insomma nel 2008-2009, tipo cavolo ne so, Shining Star. C'è Righi che ride, qua a fianco a me sta ridendo, sì però è vero le ascoltavo, però adesso sinceramente non mi piacciono più, anzi quelle canzoni tipo quelle le ho eliminato, anche Infinity, quelle robe del genere non le ascolto proprio più perché non so, mi snervano dopo tre secondi d'ascolto, quindi più che una canzone o comunque due canzoni così, cioè è quel genere lì, diciamo, di musica che non ascolto più. Terza domanda, due canzoni che hai sempre ascoltato? Allora, per quale sono abbastanza certo? La prima è Don't You Forget About Me dei Simple Minds, che vabbè fa anche parte della colonna sonora di uno dei miei film preferiti che è The Breakfast Club, la seconda è Paper Cup di Heather Nova, quella ce l'ho dai tempi dei tempi e mai smetterò di ascoltarlo, ancora ogni tanto mi commuove, perché mi ricorda proprio, insomma, Dozone Creek e quando Pesi, smettila di ridere tu di ogni mia risposta, quando Andy e Pesi si mollavano prima che lei diventasse una zoccola nell'ospedale psichiatrico, insomma. Beh, insomma, quella canzone è molto carina, quindi sì, Don't You Forget About Me è Paper Cup. Quattro, la mia cantante preferita, penso che lo sappiano pure i muri, pure Maria Carla, lo sa, la mia cantante preferita è Amy Winehouse, vuoi per il genere, vuoi per la musica, vuoi per i testi, non so, per tutto quanto concerne la sua persona, sì, è lei, insomma, siamo anche andati a vedere i righi al Museo Ebraico di Londra, quando c'era stata proprio l'esposizione delle sue cose, dei suoi vestiti, è un po' macabra come cosa, non so, pensare ai vestiti che lei indossava, alle cose che aveva in casa, abbiamo scoperto che era un'appassionata di Sudoku, però, vabbè, comunque sia, insomma, vedere i suoi vestitini dal vivo, le sue ballerine rosa carne, non so, è stato particolare, però, eh, possiamo anche andare a vedere la casa. Ma, vabbè, a parte quello, sì, Amy Winehouse direi che è la mia cantante preferita. Quinta domanda, qual è il tuo cantante preferito? Quindi, stavolta si parla di maschi, allora, di maschi non potrei che citare, l'ho appena levato dal muro, però è sempre nel mio corasson, nel mio corassoncito, Morrissey, che faceva ovviamente parte dei The Smiths, anche lui, vabbè, mi è sempre piaciuto un sacco, anche lui per la musica, un po', personaggio un po' sopra le righe, come del resto lo erano un po' tutti in quegli anni lì, però, vabbè, tuttora mi piace, e niente, quindi sì, direi, il mio cantante preferito è lui, Morrissey. Sei, qual è la tua band preferita? Allora, potrei dire The Smiths, perché comunque mi piacciono alla fine, essendoci dentro Morrissey, mi piacevano anche le canzoni che faceva prima quando ero insieme a loro, però, vabbè, vorrei citare qualcun altro e cito Le Tigre, Le Tigre mi piacciono un sacco, sono tre ragazze, facciamo due ragazze, più una ragazza che ha intrapreso comunque la transizione per diventare uomo, mi piacciono un sacco, le adoro, veramente ogni loro canzone io le ascolto come non so cosa, I'm so excited, mi piace tantissimo, T.K.O. l'ascolto tantissimo, cioè, loro hanno un tipo di musica che, non so, mi piace, mi mette energia e quindi sì, Le Tigre ci stanno dentro di brutta. Sette, il mio CD preferito, qual è il tuo CD preferito? Insomma, vabbè, il mio CD preferito, ovviamente, è Back to Black di Amy Winehouse, di Amy Winehouse, vuoi per la musica, vuoi per la storia che hanno le canzoni, poi leggendo un po' delle sue biografie, spulciando un po' qua e là, si riesce a capire che lei scriveva canzoni proprio con dei riferimenti alla sua vita ed è uno dei CD che io trovo più, non so come dire, più sentiti, più scritti con il cuore più che con la testa. Dopo Frank, secondo me, è passato un po' in sordina, perché sinceramente, anche io Frank l'ho conosciuto dopo Back to Black, però sì, Back to Black è proprio come entrare nella vita privata di Amy Winehouse, scoprire cosa la faceva stare bene, cosa la faceva stare male, il suo amore per Blake, insomma, tutto quanto. Quindi sì, è un buon CD che merita l'ascolto assolutamente almeno una volta nella vita, non c'è una traccia che non mi piaccia, mi piacciono assolutamente tutte. E poi, ovviamente, anche Lioness, Hidden Treasure, che è quello che però è l'album postumo, ci sono, secondo me, dentro un po' troppi rifacimenti delle sue vecchie canzoni, però, vabbè, ovviamente non è che poteva farne le nuove, e quindi, vabbè, comunque Back to Black è il mio album preferito. 8. A che concerto vorresti andare? Allora, c'è un concerto che mi è rimasto dentro, che io vorrei andarci, cioè che mi è rimasto dentro, che mi stuzzica da dentro, a cui vorrei andare, che, vabbè, sono i concerti di Emily Autumn, mi piacciono un sacco da quello che vedo, dei live, comunque, dei concerti che vedo su YouTube, mi piacciono un sacco il suo modo di performare, i costumi, vabbè, ovviamente le sue canzoni, però i costumi, le coreografie, sono delle cose un po' particolari, mi piacciono ancora di più perché sono, non sono ovviamente mai fatti in grandi stadi, o posti enormi, sono sempre fatti in posti piccolini, un po' più raccolti, quindi, sì, vorrei assolutamente andare a un concerto di Emily Autumn, solo che in Italia viene una volta di morte de' Papa, e quindi volente o volente non riusci mai ad andarci. Nove, ultima canzone ascoltata, è sempre quella che vi dicevo all'inizio, quindi, Uleo di How I Became the Bomb, ovviamente, cioè, ovviamente, assolutamente la sto ascoltando tipo in loop, venti volte di fila, di seguito, mi piace un sacco, mi rilassa tantissimo, e appunto un po' mi commuove, perché alla fine sono una brava persona, molto sotto, ma sono una brava persona, quindi, boh, non lo so, sentirla mi rilassa, e mi fa sentire una persona migliore. Dieci, se avessi la possibilità di scegliere solo uno tra due concerti, dei tuoi cantanti preferiti, chi sceglieresti? Quindi maschio e femmina? Presumbo a quelli che ti sei riferito prima. Quelli che ho detto prima, maschio e la femmina. Eh, vabbè, non è che c'è molta scelta, ovviamente, al concerto di Amy Winehouse non ci posso andare, quindi, ovviamente, Verti Race, Morrissey, eh, purtroppo, anche se preferirei andare a quello di Amy Winehouse, però, non so, o me la riesumate, me la mettete su un palco, oppure no, andrei a quello di Morrissey, ovviamente. Bene, il videotag è finito, spero vi sia piaciuto, ho dei gusti un po' particolari, perché ho dei gusti un po' particolari, vero Enrighi? Sì, poi parli con me, vabbè, un giorno lo farei anche tu, così, sentiamo tutti i tuoi generi musicali indie, crepa, e quindi, basta, spero vi sia piaciuto, vi lascio qua, nell'info box, il link del canale di Aldo, quella faccia da pirla lì, che si deve tagliare i capelli, vi saluto, vi mando un bacio, Maria Carla è qua, probabilmente svenuta e morta, righe dall'altra parte, che si nasconde come uno straccio della polvere, per il resto, basta, ciao! Ciao!